Sono gli angeli, sono esseri spirituali, immateriali, incorporei, invisibili. Sì, credere agli angeli sembra qualcosa da bambini, da illusi, ma io penso che non sia così. Gli angeli hanno una natura, hanno una intelligenza, hanno una volontà, hanno anche una libertà e hanno anche un po' una missione, hanno un ministero, insomma, delle sostanze, sostanze incorporee, sono immortali, sono sostanza, scusate, un gioco delle parole, degli spiriti puri che vanno a un corpo. Sono però esseri personali e ogni angelo ha un nome, ogni angelo ha un nome e ha una missione in base al nome. Arcangelo Gabriele, Raffaele, Michele e tanti altri angeli. E hanno un'azione verso gli uomini e verso Dio. Verso Dio loro sono intermediari, sono mandati da Dio nel mondo. Verso gli uomini gli angeli sono compagni, si affacciano, si affacciano perché non sono soltanto gli abitanti del cielo. Verso Dio sono i liturghi, cantano la lote. Che bello se noi, se ci fermassimo, a proposito, nel canto del prefazio durante la Santa Messa, gli angeli, cherubini, serafini, troni, le dominazioni, li nominiamo sempre gli angeli, salgono e scendono gli angeli e lodano il Signore, aiutano anche noi a pregare. Sono esseri invisibili, ma anche la nostra anima è invisibile, noi non la vediamo. Eppure gli angeli hanno la capacità di comunicare. L'intelligenza angelica è un'intelligenza molto fine. Loro ragionano per intuizione, non è invece per deduzione. La nostra intelligenza speculativa è per astrazione. E loro colgono subito e direttamente. Ovviamente non sono onnipotenti perché soltanto Dio è onnipotente. Hanno una volontà e una libertà che è perfetta. Ovviamente noi conosciamo che tra questi angeli ci sono non soltanto gli angeli buoni, ma ci sono gli angeli ribelli, i demoni, quelli che si sono ribellati, hanno rifiutato il progetto di Dio. Ma la vita degli angeli, la loro natura, l'essere spirituale, l'essere incorpore, immateriale, hanno una sostanza immateriale, la loro natura è sostanzialmente agapica. Cioè che significa si donano, si donano agli uomini e a Dio. E questo supera in un certo senso quella capacità umana. Anche l'uomo è chiamato ad essere agapico. E loro condividono in maniera profonda e totale con tutti gli altri abitanti del cielo e anche con gli uomini. Magari forse questa mia riflessione ci suggerirà quando abbiamo bisogno, ma anche quando non abbiamo bisogno. La sera prima di coricarci e facciamo l'esame di coscienza, rivolgere al nostro angelo custode, chiedendo la luce, la luce per ringraziare, riparare per quanto è possibile dove abbiamo commesso degli sbagli e ricominciare nuovamente e proteggere il nostro riposo.